Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni. Ci attendo un mercoledì a livello europeo ancora molto variabile alle alte latitudini, invece a latitudini mediterraneo ormai condizioni estive anche come temperature. E così anche in Italia nel complesso il tempo sarà bello, ampie zone di sereno, vi segnalo solo qualche nuvoletta sulle zone montuose, temperature come vi dicevo che risultano anche alte e supereremo i 30 gradi in molte località. Entriamo più nel dettaglio, al nord tempo bello, qualche nuvola nel pomeriggio sulle zone montuose, sull'Appennino non escludiamo anche qualche breve temporale. Nell'Italia centrale anche qua ampie zone di sereno un po' ovunque e anche qua però nelle ore pomeridiane non escludiamo qualche acquazione sull'Appennino che potrebbe poi raggiungere marginalmente anche le coste delle basse Marche e dell'Abruzzo. Infine nel sud Italia tempo bello, ampie zone di sereno, qualche annuvolamento solo nell'interno e temperature elevate. Con questo è tutto, per dettagli vi aspettiamo su trebimeteo.com Grazie.